In vista del giorno del ricordo, è per me una grande responsabilità e un dovere onorare le vittime della tragedia delle foibe e dell'esodo coatto di centinaia di migliaia di nostri connazionali dalla Venezia a Giulia, dall'Istria e dalla Dalmazia. Tra i tanti drammatici eventi che in quegli anni funestarono l'Europa e l'Italia, questa è sicuramente una delle pagine più buie ed orribili della storia. Il massacro, iniziato nel 1943, si protrasse per ben due anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Furono colpiti per lo più civili, giovani ed anziani, donne e bambini, le cui famiglie per secoli avevano pacificamente convissuto in quelle terre felici con altre etnie e culture. La Camera dei Deputati ha deciso quest'anno di celebrare il giorno del ricordo, proiettando il toccante docufilm Ricordare, portare nel cuore, prodotto nel 2021 da Il Rossetti, teatro stabile del Friuli Venezia Giulia e proposto ancora oggi nelle scuole ai cittadini. Ricordare significa etimologicamente portare al cuore, ovvero farci rivivere con il sentimento, oltre che con la mente, vicende terribili che per troppo tempo sono rimaste vive solo nella coscienza dei sopravvissuti e dei loro familiari segnati da una ferita insanabile. Il giorno del ricordo, istituito con legge dello Stato nel 2004, ci interroga non solo sulle cause della tragedia, ma anche su quelle che la tennero nascosta. Come ci suggerisce il docufilm, tutto si riconduce al fanatismo ideologico e politico, che è stata la vera cifra del secolo scorso, forse il più cruento della storia. Secondo lo studioso americano Hofer, il fanatismo di massa nasce per sfuggire alle responsabilità della vita. Dunque, l'unico rimedio efficace per contrastarlo è coltivare quotidianamente i valori della democrazia, del dialogo e della tolleranza. Non solo. Il giorno del ricordo rammenta anche a tutti noi che soltanto lo Stato democratico è capace di porre rimedio agli errori del passato. Mi piace anche ricordare, ne parlavamo poco prima, come questa pagina sia stata in particolare dolorosa, anche perché per anni è stato mantenuto un colpevole silenzio. e in quelle terre che sono state anche terre venete, parlavamo prima del fatto che si parlava proprio anche il nostro dialetto, la nostra lingua veneta, il pensiero che tante persone che sono dovute poi, che sono state esiliate e purtroppo ci sono stati alcuni casi in cui non hanno trovato quell'accoglienza che magari si aspettavano, mi fa in questo momento chiedere scuso a tutte quelle persone che hanno sofferto, a nome mio e anche per quello che rappresento, perché penso che in un momento difficoltà come quello che hanno avuto queste famiglie, non trovare, l'hanno trovata sicuramente in tante altre zone, però purtroppo in alcuni casi così non è stato, appunto non trovare quell'accoglienza che probabilmente si aspettavano deve essere stata una delle ferite più dolorose che hanno provato questi nostri connazionali. Quindi a nome mio mi sento veramente di scusarmi per quanto è accaduto, chiaramente il fatto che oggi noi ricordiamo questo penso sia, abbia un valore molto significativo e ringrazio tutti coloro i quali portano avanti questa memoria storica così importante per il nostro Paese. Vi ringrazio.